Buonasera, parliamo della nascita di Gesù di Nazareth. In questa prima parte vedremo in quale anno nacque Gesù, a quanti anni morì, in quale giorno nacque Gesù? Dove nacque Gesù? E perché è chiamato Gesù di Nazareth? In quale anno nacque Gesù di Nazareth? Prima del VI secolo d.C. gli anni si contavano a partire dalla fondazione di Roma. Ai tempi infatti dell'impero romano gli anni si indicavano a partire dalla fondazione di Roma usando l'espressione ab urbe condita, che vuol dire cioè dalla fondazione della città, abbreviata in uc. Questa consuetudine fu seguita anche dai primi cristiani finché agli inizi del VI secolo, finita la potenza di Roma ed essendo ormai il cristianesimo diffuso quasi dappertutto, si iniziò a prendere come punto di riferimento per contare gli anni la nascita di Cristo. Ora guardate, prima del VI secolo d.C., come ho detto, gli anni si contavano a partire dalla data della fondazione della città di Roma. Questo era il calendario che seguiva, il calendario romano. Dal VI secolo d.C. invece, gli anni furono contati a partire dalla nascita di Gesù. Praticamente si abbandonò nel VI secolo d.C. il calendario romano e si adottò il calendario cristiano. Nel VI secolo d.C., proprio per questo cambio di calendario, si cercò di calcolare l'anno esatto della nascita di Gesù. Fu un monaco che visse a Roma, un monaco cristiano, che visse a Roma nel VI secolo, un tale Dionigi il piccolo, a cercare di calcolare l'anno esatto della nascita di Gesù. Egli calcolò che Gesù fosse nato nel 753 dopo la fondazione di Roma. Ma Dionigi, non disponendo di tutte le informazioni storiche che abbiamo noi oggi, sbagliò questo calcolo. Andiamo a vedere, infatti, qual è il calcolo dell'anno di nascita di Gesù. La prima informazione che ci serve per determinare l'anno di nascita di Gesù, eccola. Il Vangelo di Matteo ci dice che Gesù nacque al tempo del re Erode. Questa è un'informazione storica precisa. Come vedete sotto, Erode fu re della Giudea dal 40 avanti Cristo al 4 avanti Cristo. Ora, se Gesù è nato quando Erode era re della Giudea, è chiaro che Gesù deve essere nato all'interno di questo periodo. Perché al di fuori il re non era Erode. Soltanto questa informazione ci permette di capire che Gesù non può essere nato dopo il 4 avanti Cristo, perché Erode non era più re. Ricordate che dopo il 4 avanti Cristo, qui c'è il 3 avanti Cristo, il 2, 1, fino ad arrivare allo 0. L'altra informazione che ci aiuta a determinare l'anno di nascita di Gesù, eccola. Il Vangelo di Luca ci dice In quei giorni, nei giorni della nascita di Gesù, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Ricordo che censire significa contare gli abitanti di una città, di una regione. Cioè Luca ci dice che al tempo di Gesù, l'imperatore Cesare Augusto ordinò il censimento di tutti gli abitanti dell'impero romano. Cioè di calcolare, di contare gli abitanti dell'impero romano. Gli storici ci dicono che questo censimento venne ordinato da Roma nell'otto avanti Cristo. E gli studiosi fanno questo ragionamento. Se il censimento venne deciso, venne ordinato nell'otto avanti Cristo, per realizzarlo concretamente nella lontana Palestina saranno passati uno o due anni. Quindi questo censimento probabilmente è avvenuto nel 6 avanti Cristo. Andiamo a sintetizzare il tutto. La prima informazione è quella secondo la quale Gesù nacque al tempo del re Erode. La seconda informazione. Gesù nasce al tempo del censimento. Il censimento viene realizzato probabilmente intorno al 6 avanti Cristo. Unendo queste due informazioni, ecco che l'anno probabile di nascita di Gesù è intorno al 6 avanti Cristo. Infatti, ecco qui. La maggior parte degli studiosi oggi dice che Gesù è nato intorno all'anno 6 avanti Cristo. Intorno vuol dire il 7 avanti Cristo, il 6. Quindi, vedete sotto, ora, questo è quello che dicono oggi gli studiosi. Gesù, secondo il calcolo che fanno oggi gli studiosi, nasce intorno al 6 avanti Cristo. Mentre il calcolo di Dionigi, eccolo. Quindi, Gesù sarebbe nato alcuni anni prima di quello che si pensava. Quindi, il calendario che stiamo seguendo noi, noi siamo nel 2020, cioè sarebbero passati 2020 anni dalla nascita di Cristo. In realtà, noi stiamo seguendo ancora il calcolo sbagliato del monaco Dionigi il Piccolo. Infatti, Gesù sarebbe nato, eccolo qui, alcuni anni prima dell'anno che Dionigi pensava fosse l'anno di nascita di Gesù. In realtà, oggi, saremo intorno al 2026. Perché dall'anno 0 al 6 avanti Cristo sono 6 anni. Dall'anno 0 all'anno 2020 sono 2020 anni. 2020 più 6, 2026. Gesù, a quanti anni è morto? Per determinare a quanti anni sarebbe morto, ci servono due informazioni, l'anno della nascita e l'anno della morte. L'anno della nascita l'abbiamo già determinato. Adesso andiamo a vedere in che anno sarebbe morto. Ecco il calcolo per determinare l'anno della morte di Gesù. La prima informazione sappiamo dai Vangeli che Gesù morì quando Ponzio Pilato era governatore della Giudea. Cioè sappiamo che nel momento della morte di Gesù il comandante delle truppe romane in Palestina era questo Ponzio Pilato. Gli storici ci dicono che Ponzio Pilato è stato è stato governatore o prefetto della Giudea dal 26 dopo Cristo al 36 dopo Cristo. Quindi Gesù deve essere morto all'interno di questo periodo. La seconda informazione per determinare l'anno della morte di Gesù eccola Gesù inizia a predicare nello stesso periodo di Giovanni il Battista il quale secondo il Vangelo di Luca avrebbe iniziato il quindicesimo anno del governo di Tiberi. Semplifico il Vangelo di Luca ci dà questa informazione Gesù inizia a predicare nello stesso periodo in cui inizia anche Giovanni il Battista suo cugino. I due pregano i due predicano separatamente ma iniziano nello stesso momento e sappiamo semplificando che quindi Gesù inizia a predicare nell'anno 27 dopo Cristo. Sappiamo anche che Gesù ha iniziato a predicare a fare il predicatore tre anni prima della sua morte. Questa è un'informazione che ci danno i Vangeli. Sintetizzo Gesù inizia a predicare nel 27 e Gesù ha predicato negli ultimi tre anni della sua vita. Terza informazione tutti e quattro i Vangeli presenti nella Bibbia ci dicono che Gesù muore di venerdì. Ma noi sappiamo che il giorno dopo la morte di Gesù sabato era per gli ebrei la Pasqua ebraica cioè quell'anno la Pasqua cadeva di sabato e Gesù sarebbe morto il giorno prima della Pasqua ebraica. gli studiosi hanno calcolato quando all'interno di questo periodo la Pasqua sarebbe coincisa con il giorno di sabato e hanno visto che questo è successo nell'anno 27 dopo Cristo nell'anno 30 dopo Cristo e nell'anno 33 dopo Cristo. Per varie ragioni hanno scartato il 27 e il 33 e hanno determinato che l'anno in cui muore Gesù è l'anno 30 Sintetizziamo queste tre informazioni stiamo determinando l'anno della morte di Gesù prima informazione Gesù muore quando Ponzio Pilato era il comandante dei Romani in Giudea seconda informazione Gesù inizia a predicare nell'anno 27 dopo Cristo e predica per tre anni terza informazione Gesù muore di venerdì e il giorno dopo è la Pasqua e gli studiosi ci dicono che nell'anno 30 dopo Cristo la Pasqua è caduta di sabato unendo queste tre informazioni ecco che come viene fuori l'anno 30 dopo Cristo come anno della morte di Gesù Gesù muore nell'anno 30 dopo Cristo gli studiosi confrontando il calendario cristiano con il calendario ebraico riescono anche a dirci in che giorno e in che mese dell'anno 30 sarebbe morto Gesù Gesù muore molto probabilmente il 7 aprile dell'anno 30 dopo Cristo adesso possiamo concludere a che a quanti anni sarebbe morto Gesù noi abbiamo visto che Gesù nasce intorno al 6 avanti Cristo e adesso abbiamo visto che invece muore nel 30 dopo Cristo dall'anno 0 all'anno 30 dopo Cristo sono 30 anni dal 6 avanti Cristo all'anno 0 sono 6 anni Gesù muore intorno ai 36 anni perché per molto tempo i cristiani hanno pensato che Gesù fosse morto a 33 anni cioè prima tutti dicevano Gesù è morto a 33 anni ancora oggi alcuni che non hanno continuato a studiare che non si sono aggiornati continuano a dare questa informazione Gesù è morto a 33 anni 33 anni gli anni di Cristo perché prima si dava un'altra risposta non 36 anni ma 33 andiamo a vedere i 33 anni venivano fuori in questo modo due informazioni il Vangelo di Luca ci dice Gesù quando incominciò il ministero cioè quando iniziò a predicare aveva circa 30 anni abbiamo già detto che secondo gli studiosi Gesù ha predicato negli ultimi tre anni della sua vita e quindi il calcolo è presto fatto se Gesù ha iniziato a predicare a circa 30 anni e ha predicato per tre anni è morto a 33 anni questo è il ragionamento che si faceva prima questo è il ragionamento che c'era prima dietro la risposta è morto a 33 anni come vedete però basta osservare il versetto di Luca per capire che questa informazione non è un'informazione precisa qui c'è scritto Gesù quando incominciò il ministero aveva circa 30 anni questo ragionamento è stato abbandonato e oggi quasi tutti gli studiosi ci dicono che Gesù sarebbe morto a 36 anni andiamo a vedere invece adesso in quale giorno nacque Gesù di Nazareth i Vangeli non ci dicono in quale giorno nacque Gesù non ci danno questa informazione inoltre i primi cristiani non festeggiavano il Natale in quanto anticamente c'era l'usanza di celebrare la morte delle persone non il giorno della loro nascita cioè non c'era il compleanno i cristiani iniziano a festeggiare il Natale soltanto intorno al quarto secolo quarto secolo vuol dire intorno al 300 è qualcosa per quanto riguarda il giorno di nascita di Gesù di Nazareth abbiamo alcune tesi ciò vuol dire che gli studiosi non sono tutti d'accordo abbiamo sintetizzando tre tesi questa è la prima ed è la più seguita dagli studiosi la maggior parte degli studiosi afferma che Gesù non sarebbe nato il 25 dicembre ma si è scelta questa data per il Natale per una questione simbolica cioè gli autori che sposano questa tesi fanno questo ragionamento e dicono noi non sappiamo in quale giorno sarebbe nato Gesù ma i cristiani siccome volevano ricordare la sua nascita hanno scelto un giorno in questo caso il 25 dicembre per una questione simbolica andiamo a vedere il ragionamento i romani il 25 dicembre celebravano una festa pagana pagana vuol dire non cristiana celebravano una festa pagana legata al culto del sole la scelta di questa data non era casuale infatti anticamente il 25 dicembre era il solstizio d'inverno solstizio d'inverno ricordo vuol dire la giornata più corta dell'anno cioè la giornata con meno ore di luce quindi anticamente il 25 dicembre era il solstizio d'inverno tra l'altro oggi invece è il 22 dicembre il 25 dicembre nasceva così metaforicamente parlando il nuovo sole cioè le ore di luce durante la giornata andavano aumentando giorno dopo giorno sintetizzo anticamente i romani il 25 dicembre solstizio d'inverno celebravano una festa legata al culto del sole perché proprio questo giorno perché era il giorno nell'anno con meno ore di luce e perché come vedete dall'immagine era il giorno in cui da quel giorno iniziavano ad aumentare le ore di luce i cristiani secondo questa tesi non sapendo in quale giorno dell'anno sarebbe nato Gesù avevano scelto questa data il 25 dicembre per ricordare la nascita di Gesù con questa simbologia chi è metaforicamente parlando il nuovo sole? dobbiamo ricordare che nelle sacre scritture cioè nella Bibbia Gesù spesso viene simboleggiato dalla luce infatti qui abbiamo un brano del libro di Isaia il libro di Isaia è uno dei libri della Bibbia il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce un linguaggio metaforico quindi i cristiani secondo questa tesi non sanno non sapevano in che giorno era nato Gesù ma volevano ricordare la sua nascita a questo punto hanno scelto questo giorno il 25 dicembre perché metaforicamente parlando Gesù è il nuovo sole c'è però un'altra tesi dico subito che questa tesi è poco seguita dagli studiosi è una tesi minoritaria molto minoritaria secondo questa tesi Gesù sarebbe nato veramente il 25 dicembre la spiegazione di questa seconda tesi non ve la chiederò ve la dico ma non ve la chiederò secondo alcuni studiosi il punto di partenza sarebbe la data della morte di Gesù che i Vangeli collocano al 14 del mese ebraico di Nisan secondo i calcoli di Tertulliano un grande teologo cristiano nell'anno della morte di Gesù sarebbe coinciso con il 25 marzo così a partire dall'idea secondo cui l'inizio e la fine si ricollegano a quella data i cristiani avrebbero cominciato ad associare anche il concepimento di Gesù con la memoria dell'annunciazione dell'angelo a Maria come conseguenza la data del 25 dicembre sarebbe stata associata al Natale calcolando i nove mesi della gestazione questa è la spiegazione complicata semplificando c'è una seconda tesi secondo alcuni autori Gesù sarebbe nato veramente il 25 dicembre c'è un'altra tesi che riguarda il giorno della nascita di Gesù secondo una terza tesi i cristiani avrebbero scelto il 25 dicembre per festeggiare il Natale partendo da una festa ebraica secondo questa tesi il 25esimo giorno del mese di Kislev 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 è un mese del calendario ebraico gli ebrei festeggiano Annucca la festa della luce e i cristiani avrebbero preso spunto per scegliere il 25 dicembre per festeggiare la nascita di Gesù vera luce bisogna notare che però tra le due festività vi sono delle differenze di significato e di durata Annucca è una festa che dura otto giorni queste differenze fanno dubitare che la festa ebraica abbia inciso in modo significativo sulla scelta cristiana del 25 dicembre vi segnalo anche questa ipotesi secondo un'ipotesi Gesù sarebbe nato in primavera su cosa si basa questa ipotesi Luca nel suo Vangelo ci dice la notte della nascita di Gesù c'erano in quella regione alcuni pastori che pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte facendo la guardia a loro greggie ora alcuni studiosi dicono questa informazione fa scartare che Gesù sia nato durante l'inverno e fa propendere invece per una data primaverile perché Luca ci sta dicendo che la notte in cui nasce Gesù alcuni pastori invece di stare a casa e il greggio nell'ovile stavano all'aperto di notte a custodire il loro greggio e quindi non doveva fare freddo andiamo a vedere ora da dove deriva il termine italiano natale perché il giorno in cui nasce Gesù è chiamato natale semplificando il termine italiano natale deriva dal latino e significa nascita dove nacque Gesù di Nazareth Betlemme ce lo dicono i testi di due Vangeli il Vangelo di Matteo e il Vangelo di Luca dobbiamo anche ricordare che nella Bibbia c'è un profeta il profeta Michea che preannuncia che la nascita del Messia sarebbe avvenuta a Betlemme ricordo che il libro di Michea è un libro presente nella Bibbia quindi gli ebrei sapevano che il Messia sarebbe nato a Betlemme andiamo a vedere dove si trova a Betlemme questa è la Palestina ecco Gerusalemme ed ecco Betlemme Betlemme è un centro abitato che si trova a circa nove chilometri a sud di Gerusalemme è una cittadina che esiste ancora oggi conta circa 35.000 abitanti e se vi interessa il termine Betlemme deriva dall'ebraico e significa casa del pane ricordo che Betlemme è la città natale di Davide del profeta Davide volevo anche farvi vedere che Betlemme in realtà non si trova nello stato israeliano ma nei territori palestinesi cioè quella che noi chiamiamo Palestina è divisa tra lo stato di Israele e in verde i territori palestinesi la striscia di Gaza e la Cisgiordania come vedete Betlemme non si trova all'interno dello stato di Israele ma si trova all'interno dei territori palestinesi una foto dell'odierna Betlemme e questa è la famosa basilica della natività una delle chiese cristiane più famose del mondo a Betlemme i cristiani hanno costruito una chiesa una basilica sopra quella che viene considerata la grotta dove sarebbe nato Gesù dovete considerare che questa basilica è su due piani nel livello superiore c'è la chiesa sotto livello inferiore c'è la grotta della natività sarebbe secondo la tradizione cristiana il punto in cui sarebbe nato Gesù di Nazareth ora qualcuno si domanderà ma se Gesù nasce a Betlemme perché viene chiamato Gesù di Nazareth Gesù nasce a Betlemme ma trascorre la maggior parte della sua vita a Nazareth e quindi è chiamato Gesù di Nazareth come potete vedere da questi libri a vedere dove si trova Nazareth se questa è Betlemme siamo nella Giudea nella regione chiamata Giudea Nazareth eccola qui sta invece nella regione chiamata Galilea infatti Gesù era un Galileo quindi Gesù nasce a Betlemme ma trascorre la maggior parte della sua vita a Nazareth e morirà a Gerusalemme interna Nazareth andiamo a vedere la basilica dell'annunciazione che si trova a Nazareth anche in questo caso i cristiani hanno costruito una basilica sopra quella che secondo la tradizione cristiana sarebbe la casa di Gesù Giuseppe e Maria la basilica vedete questi resti questi sarebbero i resti della casa di Gesù la casa di Nazareth la casa dove Gesù ha abitato per gran parte della sua vita insieme a Giuseppe e a Maria ora non molti sanno che secondo i cattolici una parte della casa di Nazareth si troverebbe in Italia andiamo a vedere siamo nelle Marche guardate la freccia gialla il paese si chiama Loreto è un piccolo centro abitato in provincia di Ancona c'è questa basilica la basilica della santa casa la vedete di questa basilica c'è questa struttura di marmo e all'interno di questa struttura di marmo ci sono tre pareti sarebbero una porzione della casa di Nazareth che sarebbe stata portata in Italia secondo la tradizione dai crociati quella che secondo la tradizione cattolica sarebbe una parte della casa di Nazareth guardate questa in bianco è la porzione della casa di Gesù che sarebbe rimasta a Nazareth che si troverebbe ancora oggi a Nazareth l'abbiamo vista questa in giallo invece sarebbe una parte della casa che sarebbe secondo la tradizione cattolica stata smontata probabilmente dai crociati a Loreto nelle Marche la vedete quindi di fatto secondo la tradizione cattolica una parte della casa di Gesù di Nazareth si troverebbe in Italia a Loreto a Loreto a Loreto Grazie a tutti.